Benvenuti sul canale, dove oggi vivremo uno dei momenti più intensi e commoventi di Terra Amara. Nel video di oggi assisteremo a un evento che cambierà per sempre il corso della storia, la tragica ed eroica morte di Akan, un episodio che non solo scuote l'intera narrazione, ma che ci lascia anche una profonda riflessione sull'amore e il sacrificio. State pronti a scoprire come si svolgeranno gli ultimi momenti di Akan e quali saranno le reazioni di Zuleya e degli altri personaggi di fronte a questa svolta devastante. Assicuratevi di guardare il video fino alla fine, per non perdere nessun dettaglio di questa svolta drammatica. Se non volete perdervi ulteriori sviluppi e approfondimenti di Terra Amara, iscrivetevi al canale, cliccate sul pulsante Mi piace se questo video risveglia le vostre emozioni e attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblichiamo nuovi contenuti. Ora, immergiamoci in questo episodio carico di emozioni. Zuleya rivela a Akan di essere stata la mente dietro il piano orchestrato con Cholak, che ha ingannato tutti facendo credere alla morte di quest'ultimo. Con una nota di preoccupazione, Akan esprime il suo disappunto per non essere stato coinvolto nel piano, sottolineando che, come suo marito, avrebbe dovuto essere informato. Zuleya, cercando di giustificare la sua scelta, spiega che il suo intento era sorprendere Akan e dimostrare che Betul e Shermin meritavano di essere smascherate. Le due donne erano convinte di ereditare la fortuna di Cholak, credendolo morto, ma il piano di Zuleya ha rovesciato completamente la situazione. Akan, colpito dalla rivelazione, ammette di essere stato completamente ingannato. La messa in scena della morte di Cholak, incluso il funerale e la bara, era stata talmente ben realizzata da sembrare autentica. Zuleya, con un sorriso soddisfatto, osserva la reazione di Akan, evidenziando la complessità e il successo del loro inganno. Disperate e in fuga, Shermin e Betul trovano un passaggio fortuito per raggiungere la casa estiva di Fiusun. Convinte di trovare un rifugio, pianificano di entrare dalla finestra precedentemente usata per la loro fuga. Tuttavia, giunte sul posto, scoprono con disappunto che Fiusun ha preso precauzioni. Porte e finestre sono ora sigillate con inferriate. La scoperta lascia Shermin sconvolta, che tra le lacrime esclama «Ah, Betul! Non posso credere che la grande Shermin Yaman sia rimasta senza una casa! Che destino crudele il mio! Non so cosa ho fatto per meritare tanto dolore!» Betul, accanto a lei, è altrettanto devastata, e consumata dalla rabbia, maledice Zuleya. «È tutta colpa di Zuleya, lo giuro madre, la ucciderò con le mie mani!» Mentre Shermin e Betul affrontano la loro difficile situazione, altrove si dipana un clima decisamente più leggero. Lutfie, Fikret e Zainep sono riuniti, divertendosi per il successo del piano ingegnoso orchestrato da Zuleya e Cholak, destinato a intrappolare Shermin e Betul. Nel bel mezzo delle risate, Zainep commenta nostalgicamente come, durante la sua infanzia, Ciukurova non fosse mai stata così animata e divertente. Fikret, con un sorriso, le risponde scherzosamente. «Certamente non lo era, perché né io né Zuleya eravamo qui!» E i loro sorrisi si allargano in una risata condivisa. Dopo un po', Zainep menziona l'intenzione di chiamare un taxi per tornare a casa, ma Fikret si offre galantemente di accompagnarla. Accettando la proposta, i due partono insieme, e una volta arrivati a casa di Zainep, si scambiano un addio che si trasforma in un bacio appassionato. Questo gesto segna l'inizio di una relazione segreta tra i due, un nuovo legame che seppellisce definitivamente i precedenti sentimenti di Fikret per la dama di Ciukurova, inaugurando una fase tutta nuova nella loro vita sentimentale. Ghaffur si dirige al negozio di Soleiman nel paese per fare una consistente spesa necessaria per la villa. Con entusiasmo, commenta a Soleiman che la famiglia Yaman è il suo primo cliente della giornata, dando così un buon inizio ai suoi affari. Tuttavia, quando Soleiman inizia a leggere la lista della spesa, è sorpreso e gli fa notare che gli stessi prodotti sono stati acquistati solo due giorni prima dal signor Hakan, marito di Zuleya. Confuso e incredulo, Ghaffur fatica a credere che Hakan sia stato personalmente a fare la spesa e, pensando che sia uno scherzo, lascia il negozio senza comprare nulla, andando via arrabbiato. Tornato alla villa, Ghaffur si confronta con Cevrie e Fadik, accusandole di averlo preso in giro, mentre le cuoche lo aspettavano per iniziare a preparare il pranzo. Le due donne sono sorprese quanto lui, poiché non erano a conoscenza degli acquisti fatti da Hakan. La discussione cresce fino a quando Zuleya, attirata dal trambusto, entra in cucina per capire cosa stia succedendo. Ascoltando il racconto di Ghaffur, Zuleya inizia immediatamente a sospettare che gli acquisti fatti da Hakan non fossero destinati alla villa, ma piuttosto a Kadir e Vahap, che sono in fuga dalla giustizia. Decisa a scoprire la verità, Zuleya riprende a seguire di nascosto suo marito. Infine, lo scopre mentre si incontra con i suoi amici fuggitivi. Delusa e turbata da questa rivelazione, Zuleya si allontana dal luogo senza farsi notare, portando con sé un profondo senso di tradimento e delusione per le azioni di Hakan. Nel frattempo, Hakan fornisce a Vahap e Kadir gli ultimi dettagli per la loro fuga verso la Siria, assicurandoli che i suoi uomini li aiuteranno nel viaggio. Dopo un commovente saluto, Hakan torna alla villa Yaman e trova le porte chiuse con gli impiegati che gli negano l'accesso. In un momento di tensione, Zuleya appare dietro la porta, dichiarando freddamente «Ho detto di non aprirti, non voglio che tocchi i miei figli con le stesse mani con cui hai abbracciato Kadir e Vahap». Nonostante le suppliche di Hakan di lasciarlo spiegare, Zuleya è irremovibile, rivelando di averlo visto al nascondiglio mentre abbracciava affettuosamente i suoi amici e confermando di essere a conoscenza del suo ruolo nella loro fuga. Hakan ammette la verità delle sue azioni, ma insiste nel voler spiegare le sue ragioni. Zuleya, però, è distrutta dal dolore e dalla delusione. «Cosa mi spiegherai, Hakan? Che gli devi la vita? Che non puoi rompere quella vecchia amicizia? Quante volte mi devi mentire ancora?» Con fermezza, dichiara che è Hakan a mettere fine al loro matrimonio con le sue continue bugie e gli rivela di aver già informato la polizia sulla posizione di Kadir e Vahap, rendendo inutile tutto il suo sforzo. Con queste parole, la dama di Chukurova chiude definitivamente il suo matrimonio con Hakan, lasciandolo disperato e solo fuori dalla villa. La scena si conclude con un Hakan devastato dalla realizzazione delle conseguenze delle sue scelte e dall'irreversibile rottura del suo rapporto con Zuleya. Mentre la polizia inizia la ricerca di Vahap e Kadir, basandosi sulla denuncia di Zuleya, i due riescono a sfuggire agli agenti. Consumato dal sospetto e dalla rabbia, Vahap è convinto che sia stato Hakan a tradirli per placare la moglie. Nel culmine della sua furia, giura vendetta contro Hakan, promettendo di ucciderlo. In una scena tesa e carica di suspense, Vahap e Kadir stanno fuggendo in auto. Dopo un breve dialogo, Vahap decide improvvisamente di fermarsi, affermando che resterà indietro e poi raggiungerà Kadir più tardi. Kadir, seppur riluttante, accetta la decisione del fratello. Vahap scende dall'auto e, con determinazione, si dirige verso la villa Yaman con l'intento di trovare e uccidere Hakan, convinto che sia lui il responsabile della loro denuncia alla polizia. Questa svolta mette in moto una catena di eventi che promette di essere ricca di tensione e dramma, con Vahap che si avvicina alla villa guidato da un desiderio di vendetta che potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti i coinvolti. Nella villa Yaman, l'atmosfera è tesa e carica di emozioni. Zuleyah, profondamente delusa, confida a Lutfie i suoi rimpianti per non aver creduto a Fikret, che le aveva più volte avvertito dei segreti di Hakan riguardo l'aiuto fornito a Kadir nella sua fuga. Zuleyah, ammettendo di essere stata accecata, esprime il suo dolore per non poter cambiare il passato e la sua determinazione a non lasciarsi abbattere ulteriormente dal rimorso. Tra le lacrime, si interroga su come sia stata possibile una tale cecità. «Sai quante volte me l'ha promesso? Me lo ha giurato. Mi ha detto che non ci sarebbero state più bugie nelle nostre vite, mai più. Come ho potuto credergli? Come sono stata così stupida da credergli?» Lutfie, cercando di consolarla, risponde con empatia, ma anche con franchezza. «Ah, Zuleyah, per favore scusami, non arrabbiarti. Ora è molto chiaro che quest'uomo non è per niente buono». Zuleyah, riflettendo amaramente sul suo rapporto con Hakan, ammette di essere arrabbiata con se stessa per avergli permesso di entrare così profondamente nella sua vita. «Come ho potuto innamorarmi di quell'uomo? Come gli ho dato accesso alla mia vita? Sono arrabbiata per questo!» Intanto, all'esterno della villa, la situazione si fa tesa. Hakan, disperato di parlare con Zuleyah, non viene lasciato entrare. In un gesto estremo, spara al suolo, costringendo gli uomini a lasciarlo passare. Entra così con forza nella villa, non sapendo che Vahap, armato e furioso, è nascosto dietro un muro, pronto a colpirlo. Zuleyah, vedendo Hakan irrompere nella villa, esprime apertamente la sua frustrazione e rabbia. «Ora sta anche entrando nella mia villa?» Hakan, consapevole di non essere il benvenuto, implora comunque di essere ascoltato, cercando disperatamente di spiegare le sue ragioni e di ricostruire un dialogo, nonostante il caos emotivo e fisico che lo circonda. La tensione raggiunge il culmine, con le vite di tutti i personaggi appese a un filo di incomprensioni e minacce imminenti. Il dramma alla villa raggiunge un picco di tensione senza precedenti. Mentre Hakan tenta un'ultima riconciliazione con Zuleyah nella villa, esprimendo l'intenzione di lasciare Chukurova e confessando ancora una volta il suo amore, la situazione prende una svolta drammatica e inaspettata. Hakan, nel tentativo di porre fine alle incomprensioni con Zuleyah, dice «Me ne andrò, me ne vado da Chukurova. Prima di andare, volevo salutarti per tutto ciò che abbiamo condiviso insieme e volevo ricordarti quanto ti amo». Zuleyah, ormai stufa delle continue bugie, non nasconde il suo scetticismo e risponde freddamente di aver già sentito queste parole. Hakan insiste, con voce emozionata. «Ti ho mentito. Ti ho nascosto il mio passato. Ma c'era una verità in tutto questo. Ti amo, Zuleyah. Non dimenticarlo. Tu sei la persona giusta per me. Lo sarai sempre». Proprio mentre queste parole lasciano l'aria carica di tensione, l'inaspettato accade. Betul, fino ad allora nascosta e in attesa del momento giusto, appare improvvisamente e, con il volto trasformato dalla rabbia, grida il nome di Zuleyah e punta un'arma contro di lei. Hakan, vedendo il pericolo, agisce distinto e si frappone tra l'arma di Betul e Zuleyah, ricevendo lui il colpo destinato alla sua amata. Mentre Hakan cade sanguinante, Zuleyah grida disperatamente per chiedere aiuto. Nel caos, Fikret tenta di intervenire e catturare Betul, ma lei riesce a sfuggire. Zuleyah, in preda al dolore, tiene tra le braccia il marito ferito, implorando chiunque si trovi nelle vicinanze. «Aiutatemi! Hakan è stato colpito! Fate qualcosa! Aiutatemi!» La scena si chiude con un'immagine straziante di Zuleyah che piange disperata tenendo tra le braccia Hakan ferito, mentre l'eco dei suoi pianti risuona nella villa. La tensione si intensifica quando Hakan, gravemente ferito, diventa il fulcro di una corsa contro il tempo per salvarlo. Fikret, testimone della tragica scena, assiste gli impiegati nel tentativo di soccorrere Hakan, ma la situazione è critica. Zuleyah, devastata, supplica Hakan di resistere mentre lui viene trasportato d'urgenza all'ospedale. «Resisti, amore! Fikret guida più veloce! Starai bene, amore! Solo resisti! Per favore!» Grida disperata durante il tragitto verso l'ospedale. Una volta arrivati, Hakan viene immediatamente portato in sala operatoria, dove il dottor Aikut e il suo gruppo di medici fanno il possibile per salvargli la vita. Zuleyah, impotente, piange e prega per la sopravvivenza del marito. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, la situazione precipita. Hakan non reagisce e perde molto sangue, fino a subire un arresto cardiaco. Il dottor Aikut, dopo tentativi frenetici di rianimazione, è costretto a dichiarare l'ora della morte, 16.45. Rivolgendosi a Zuleyah, dice con gravità, «Zuleyah, mi dispiace, abbiamo fatto tutto il possibile!» Zuleyah è sconvolta dalla notizia e piange disperatamente la perdita di suo marito, Hakan Gumusoglu, morto eroicamente per proteggerla dall'attacco mortale di Betul. La sua dedizione e sacrificio finale per salvare l'amore della sua vita segnano un momento di profonda tristezza e riflessione sulla fragilità della vita e la forza dell'amore. Questo tragico epilogo lascia Zuleyah e gli spettatori con il cuore spezzato, mentre si chiude un capitolo cruciale nella storia di Terra Amara. Oggi abbiamo assistito a un momento tragico e toccante, la perdita di Hakan, un personaggio amato, che ha sacrificato la sua vita in un gesto eroico per proteggere Zuleyah. La sua morte non solo lascia un vuoto nei cuori dei personaggi, ma anche in quelli di noi spettatori. Grazie per averci seguito in questo episodio straordinariamente emotivo di Terra Amara. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete Voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!